Ciao, io sono Jill Cooper, sono tornata un sacco di tempo che non vloggo per voi, con voi e con me stessa perché ho avuto un po' da fare in giro che fra po' scoprirete perché. Ma nel frattempo mi avete chiesto che cos'è la mia solita dieta giornaliera, allora oggi ve le spiego. Io faccio una cosa che si chiama intermittent fasting, che vuol dire io faccio una fasting o un digiuno pari a 13 ore al giorno. Vuol dire che se io smetto di mangiare alle 9 di sera, provo di non mangiare fino almeno alle 10 della mattina seguente. Allora, lo faccio questo perché è una questione che ho cominciato a cercare come ralentare il processo degenerativo dell'invecchiamento celebrale perché sono sulla soglia di 50 anni, si vede che il cervello comincia a ralentarsi, specialmente quando fai quei giochi, sai quei giochi proprio dicono l'età del tuo cervello è, e tu fai no, 42, io voglio avere un cervello come a 25 anni. Allora, facendo queste ricerche ho scoperto tantissimo su questo mimi digiuno, intermittent fasting, cioè la dieta di 8-16, però devo dire la cosa più facile da sostenere è 13 ore, vuol dire finisco la cena e non mangio fino al giorno dopo almeno 13 ore. Uno dice, ma come fai? Non hai fame la mattina? Onestamente, una volta che il tuo fisico si abitua, no, non hai fame assolutamente. L'altra cosa è, mangiando alle 10-11 di mattina, il primo collezione, si sposta il pranzo, che eviti, e a questo punto il tuo pranzo viene verso le 3-4 di pomeriggio, non fai sfuntini extra e poi vai a mangiare la cena regolarmente. L'altra cosa è che cosa mangio? Mangio Nutribullet, faccio una Nutribullet, però ci sono tanti, ci sono Nutriblitzer, Nutribullet, ci sono tanti marchi, ma la verità è un frullatore particolare che frulla molto, molto, molto velocemente, così non cuoce alimenti, ma mantiene le fibre intatto. Dopo tanti studi mi sono reso conto che preferisco il frullato all'estratto, perché l'estratto elimina le fibre, ma le fibre sono prebiotici, che sono importantissime per la flora batterica del vostro microbioma, che ritorna per aiutare il tuo cervello, ok? Addirittura i prebiotici e i probiotici sono anti-Alzheimer per eccellenza, e tanto altro ancora, ma non vado sui prebiotici e i probiotici oggi. Così io faccio questo Mexic-frullato con latte di cocco, che pensa a meno calorie del latte, del latte di mandorle e del latte di riso, c'è soltanto 20 calorie per 100 ml, però al di là di quello mi piace il proprio gusto, e metto di tutto, metto ananas con il gambo, non butto il gambo, perché il gambo è drenante, perché è pieno di bromelina e aiuta anche il metabolismo, carote, magari metto anche citriolo, metto frutti di bosco su gelato, così mi dà una sensazione, un po' come se fosse un sorbetto, metto frutti di stagione, provo sempre di prendere frutti e verduri di stagione, perché vuol dire quello più pieno di proprietà organalettiche. Pranzo, che può essere pranzo? Pranzo può essere un'insalata, può essere verdure, io amo cucinare verdure, e ottimamente la mia nuova passione, no, non nuova passione, la vecchia passione ho ritrovato, è il riso, anziché la firine, cioè se volete dimagrire, mangiate il riso e eliminate il pane, cioè purtroppo io adoro la pizza o adoro il pane, ma ti fa ingrassare da morire, invece se mangi un po' di riso condito con verdure crude, con un po' di olio crudo, ragazzi, magari se volete aggiungere un po' di tonno, di salmone o qualche pesce leggero, è un ottimo pranzo, e poi cena è sempre tante, tante, tante verdure, legumi, mi piacciono i ceci, il hummus, mi piacciono gli hamburger vegetali, mi piacciono le lenticchie, e di nuovo il riso, e poi come dessert, se volete, potete riprendere quel lato di coco, quel frullatore che ti ho detto, Nutribullet o Nutriblitzer, come preferite, metto i frutti di bosco, una banana che dolcifica tutto, frullate e la mangiate. L'altra cosa che faccio tutti i giorni è l'integrazione, l'integrazione è importante perché mi aiuta a rallentare tutto il processo degenerativo del metabolismo che si rallenta, antiossidanti per proteggere e controllare i cali liberi, che aiuta la pelle, insomma, per avere tanta energia, e anche cose per la mia articolazione, perché comunque l'articolazione, specialmente di uno sportivo, si degenerano più velocemente degli altri, insomma, questo è più o meno il mio quadro generico della mia alimentazione giornaliero, tanta, 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 tanta acqua e ogni tanto un caffè, perché almeno il caffè lasciatemelo, ti prego, ok? Un bacio a tutti quanti, vi aspetto alla prossima vlog, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, seguitemi su Instagram, Jill Cooper Super Jump, e condividete questi video se ti è piaciuto, ok? Un bacio a tutti, ciao!